Sanno uscendo altri Droger dal terreno. Pianpa! Cosa grants? Cosa grie? Cosa grie? Cosa grie? Cosa grie? Cosa grie? Stia alfa! Stia alfa! Quella è l'imperatrice di cui ti parlavo. Colpò gli dèi per la morte della sua famiglia e scatenò la sua vendetta su qualsiasi cosa le capitasse a tiro. Nemmeno la morte riuscì a fermarla. Lo so.